L'Assemblea annuale di Confagricoltura Donna quest'anno si è tenuta tra le colline del Gavi, in particolare a Rovereto, nell'azienda agricola Ippoggio. La relazione introduttiva è stata tenuta dalla Presidente di Confagricoltura Donna Alessandria, Michela Marenco. Oggi la nostra assemblea annuale, siamo donne imprenditrici agricoli dalla provincia di Alessandria, donne di Confagricoltura. A ciascuna di noi esprime belle realtà, belle aziende e soprattutto è importante il nostro lavoro per salvaguardare quello che è il nostro territorio. E oggi siamo qui in questo territorio, come diceva lei, stupendi che è Gavi, accolti dalla padrona di casa del Poggio di Gavi, che è una nostra associata. E ci piace essere qui ed essere insieme, perché insieme bisogna lavorare se vogliamo arrivare a delle soluzioni. E abbiamo qui ad Alessandria tantissime meravigliose aziende agricole, di cui dobbiamo essere orgogliosi, perché dobbiamo lavorare per un mondo agricolo importante, sostenibile e per sostenibile intendo proprio realtà che possano creare bellezza e reddito per poter proseguire. Altrimenti la nostra agricoltura non avrà un grande futuro, ma noi siamo fiduciosi perché l'agricoltura ha un grande futuro, perché ci crediamo e lavoriamo volentieri per questo.